ciao ragazzi siamo davanti al cinema metropolitano di napoli perché oggi ci sarà la prima di un nostro film il ragazzo della giudecca e mandiamo un saluto agli amici del ravello festival e anche agli amici del ravello magazine ma tu mandi un saluto ma ci fai a casa una a una a salutarli stai tranquillo basta il video vi salutiamo da qua ciao a tutti ci vediamo da per lo festival ciao